Per la categoria di attrici, attrici cantanti. Duro ma si fa. Vengo da Nizza di Sicilia. Che cosa ti ha portato fin qua? Franco Battiato perché lo amo, in tutte le sue forme. Sono arrivati a Lecce da tutta Italia per partecipare ai provini per l'opera popolare 800 firmata da Franco Battiato. Sono 350, i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che si contenderanno i 30 posti per attori e 20 per cantanti. Non hai la forza di spingere lo sguardo fino a me? È l'ora, padre! È nostra ora! A regista Freddy Franzutti il compito di scegliere gli attori che per la prova di recitazione si sono cimentati in un monologo, una poesia in italiano e un brano musicale leggero. Nel ruolo del regista ho un ideale che sto cercando, quindi si tratta più di far corrispondere le caratteristiche della persona che vedo in quello che ho già immaginato, sperando di trovare la persona che immagino. Una prova di canto, due brani musicali e un monologo in italiano invece per i cantanti scelti dal maestro Francesco Libetta e Angelo Privitera, stretto collaboratore di Battiato. La cosa più evidente e che già da oggi ci condiziona è la grande varietà di professionalità impiegate. Bisogna proprio saper fare, ricordare le cose, gestire le emozioni del palcoscenico, trasmettere quelle del lavoro. È un lavoro un po' più semplice che semplicemente avere le physiques du rôle. Quindi conta tanto anche l'esperienza fatta al di là della voce? Assolutamente, infatti tutti quanti hanno presentato dei curriculum e qualche volta anche dei curriculum di tutto rispetto. Quindi è difficile dire no? Fino adesso non c'è mai stato un caos in cui veramente c'era da dire no. C'è però molto spesso qualcun altro che fa dire sì e quindi non c'è più posto purtroppo per quello che avevamo sentito prima. Se potessi dirti addio, ti chiamerei se io rivedendo...